HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609-13, C13, di inceppamento carta nell'unità fronte-retro. Utilizzare la seguente procedura per controllare la presenza di carta in tutte le posizioni possibili di inceppamenti nell'unità fronte-retro-automatica. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento. Aprire lo sportello posteriore. Rimuovere la carta inceppata. Chiudere lo sportello posteriore.